Faccello di schiena la nuova operazione. Grazie. Gamba. Ok. Bravo! Ascoltami, lascia perdere questo. Lascia perdere pure l'altro. Tieni la retina. Ok. Brava. Metti giù la mano. Giù. Sposta la retina esterna. Guarda avanti. Tieni la retina là. Yes! Guarda avanti. Guarda giù, dice. Va bene così. Va bene così. Molto bene. La retina è là. La retina è là. Guarda all'interno. Sposta la retina esterna. bene. Va bene. Va bene. Va bene. Con calma eh. Va bene così. la retina è là sul collo. Bene. Squadra seconda colonna. Aspetta. Lascia e vai. Tieni la mano là. Vai. Yeah! Guarda. Perfetto. Perfetto. Vai. Vai. Go. Yeah! Yeah! Perfetto. Perfetto. Vai. E va. È qua più giù se ce la fai. Lascia. Ti hai la mano là. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie.